sostanzialmente nel 1933 appena arriva al potere riunisce il partito nazista nel partito nazista davanti all'auditorio c'è una sala enorme ci sono anche membri della chiesa evangelica tedesca che in quel momento è alleata già con i nazisti e dice noi siamo coloro che hanno ottenuto il potere ma quando eravamo solo sette eravamo una minoranza razzialmente distinta eravamo quelli che avrebbero già pensato che due cose non potevamo che evitare che saremmo arrivati al potere e lo saremmo arrivati senza compromessi senza dover fare patti con nessuno perché questo è quello che fanno le minoranze qualificate dei veri combattenti quelli che combattono e perché hanno il sangue puro e non si può essere che minoranza all'inizio ora siamo la maggioranza ora governiamo il paese ora facciamo quello che vogliamo noi è un discorso che vi consiglio di guardare è sottotitolato quindi lo comprendereste tranquillamente ma ci dice anche una cosa ci dice che hitler fin dal 1933 dal momento in cui prende il potere inizia rapidamente e in pochissimi mesi arriva a conclusione un processo di nazistificazione della Germania se vi ricordate bene io vi ho detto ieri che già dal Mein Kampf lui aveva affermato che l'individuo non conta nulla se non è inserito in una collettività ed è questo il principio di base del totalitarismo il totalitarismo sostanzialmente dice non esiste importanza individuale che non possa essere sacrificata all'importanza della collettività e la collettività più alta è la nazione che deve avere uno stato è uno stato che espella da sé tutte le minoranze dissenzienti e tutti coloro che non appartengono per sangue a quella nazione nel caso della Germania nazista questa cosa ovviamente immediata ma la cosa che ci sorprende storicamente che viene accettata senza grandi problemi da una buona parte dei tedeschi altrimenti non ci spiegheremo come mai hitler che queste cose le aveva sempre dette si è arrivato al potere tramite delle elezioni che gli hanno conferito oltre il 40 per cento dei consensi e poi sia pure con brogli abbia avuto un plebiscito nel agosto del 1934 del 90 per cento per assumere quelli che noi oggi chiamiamo i pieni poteri cioè un potere che non è più limitato da alcun altro potere contrastante non c'è il parlamento che ha derogato alle sue funzioni affidandole al capo dello stato non c'è più la distinzione fra un cancelliere e un presidente della repubblica hitler stabilisce a quel punto che non esiste neanche la repubblica esiste il terzo reich il reich millenario dopo quello di carlo magno esisteva il reich degli imperatori tedeschi della prima guerra mondiale e ora esiste rinato finalmente il terzo reich che ha una funzione civilizzatrice sull'europa e sul mondo e che durerà mille anni ma mille anni significa per hitler dire l'eternità il compito è arduo ma ce la faremo e chi è che non può partecipare al reich millenario ben innanzitutto bisogna dire chi deve partecipare hitler nel discorso del 1933 dice beh ci sono ancora un sacco di tedeschi che non fanno parte di questo stato che sono nazione tedesca ma non hanno uno stato unitario in cui vivere noi dal 33 lo dice noi ci occuperemo soprattutto di loro e caceremo tutti coloro quella minoranza pavida vigliacca traditrice dello stato o nemica interna che ci danno fastidio e allora come si fa a nazificare completamente una nazione che già in qualche maniera però gli ha affidato un compito di civilizzazione e di dominio profondo beh noi cominciamo a vedere adesso anche in base a alcuni documenti che io ripescato quelli e quelle quelle che erano le le intenzioni di hitler e poi vedremo anche quali sono gli atti politici che vengono fatte io partirei proprio dal programma politico del nazismo programma politico del partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi 1920 sono sette persone a fondarlo ce lo dice nel discorso del 33 vedremo anche ed è utile come questo programma si differenzi da quello che abbiamo in parte letto che il programma del 1919 dei fasci di combattimento il programma di piazza sansepolcro vedete al primo punto c'è questa ossessione noi chiediamo la riunione di tutti i tedeschi in una grande germania in base al diritto di autodecisione dei popoli il diritto di autodecisione dei popoli che anche l'italia aveva in qualche maniera sperato che nel 1919 coi trattati di parigi dopo la dottrina di will sarebbe stato a suo favore aveva in realtà smembrato nel 1919 la germania l'austia e i popoli tedeschi nella visione di hitler ma anche di buona parte dei combattenti tedeschi e del popolo tedesco era stato non solo umiliato ma era stato anche disgregato distrutto sparpagliato qualcuno era finito in polonia qualcuno era finito in cecosovacchia qualcuno era finito in ingheria qualcuno era rimasto nel territorio francese tutti i popoli di lingua e di tradizione e di sangue soprattutto perché il sangue questa questo concetto anche un po simbolico che unisce tutta la tradizione tedesca devono essere unificati in una grande germania ovviamente l'unificazione riguarda questo punto l'unificazione anche della dell'austria e anche del sud tirolo italiano e anche dei territori che si trovano al confine con ungheria cecoslovacchia il corrido di danzica i paesi della danimarca tutti coloro che parlano tedesco e che sono ascrivibili al sangue ariano l'articolo 2 noi chiediamo la parità di diritto del popolo tedesco di fronte alle altre nazioni nonché l'abolizione dei trattati di pace di versailles e di san germano sono i due trattati che avevano rispettivamente deciso le sorti della germania e dell'austria durante le trattative terzo noi chiediamo terra e suolo tra parentesi a specificare colonie per nutrire il nostro popolo ed insediarvi la nostra eccedenza di popolazione lo spazio vitale può essere cittadino dello stato solo chi sia con nazionale può essere con nazionale solo chi sia di sangue tedesco senza riguardo alla sua religione nessun ebreo può essere quindi con nazionale cosa ci rende tedeschi il sangue anche se abbiamo credenze religiose diverse perché qualcuno è protestante qualcuno è cattolico ma gli ebrei non sono soltanto una religione diversa gli ebrei sono una razza sono un sangue totalmente diverso e quindi sono dal terzo articolo in poi della della fondazione del partito nazionalsocialista sono esclusi dalla cittadinanza tedesca nel progetto di hitler fin dall'inizio e nel progetto dei suoi seguaci di coloro che aderiranno a questo partito l'ebreo è una scoria qualcosa da eliminare chi non è cittadino dello stato deve poter vivere in germania solo in veste di ospite e deve sottostare alla legislazione che regala che regola scusatemi il soggiorno degli strenieri padroni a casa nostra il diritto di influire articolo 6 il diritto di influire sulla condotta e sulle leggi dello stato ospettare solo al cittadino dello stato per questo noi chiediamo che tutte le cariche pubbliche di qualsiasi genere cioè del reich dei lender o dei comuni possono venire occupate solo da cittadini dello stato noi lottiamo contro il parlamentarismo corruttore contro l'attribuzione di cariche in base a considerazioni di partito senza tener conto del carattere e della necessità e della capacità e sembra qui ritrovare un mantra degli ultimi anni chi deve governare non può essere straniero perché altrimenti abbiamo una contaminazione il parlamentarismo è un sistema corrotto che funziona male e l'attribuzione di cariche di potere dello stato non devono essere fatte in base a decisioni che vengono prese dai partiti che sono corrotti perché appartengono al sistema parlamentare ma devono tenere conto del merito quindi della competenza ma soprattutto del carattere dove il carattere è evidentemente che cosa è l'adesione a un progetto di germania purificata dal punto di vista razziale e con l'obiettivo di essere la nazione più grande potente e leader in europa e nel mondo noi chiediamo che lo stato si impegni ad avere cura in primo luogo di assicurare il lavoro e possibilità di esistenza ai cittadini dello stato e avendo definito prima che i cittadini sono soltanto coloro che hanno sangue tedesco tutti gli altri non hanno questo diritto qualora non sia possibile nutrire la popolazione dello stato gli appartenenti ad altre nazionalità cioè coloro che non sono cittadini dello stato dovranno venire espulsi dal reich rimandiamoli a casa loro anche se questi la casa in realtà ce l'avevano in germania da generazione perché gli ebrei questo avevano erano lì da generazione articolo 8 si dovrà impedire ogni nuova immigrazione di non tedeschi noi chiediamo che tutti i non tedeschi che sono immigrati in germania dopo il 2 agosto 1914 vengano costretti a lasciare immediatamente il reich detto questo eliminati tutti coloro che non sono di sangue tedesco tutti i cittadini dello stato devono possedere eguali diritti ed eguali doveri quali sono però perché questo diventa interessante primo dovere di ogni cittadino dello stato deve essere quello di produrre spiritualmente e materialmente produrre ma non produrre soltanto merci produrre anche qualsiasi altro elemento culturale spirituale l'attività del singolo però non deve urtare contro gli interessi della comunità ma deve applicarsi nel quadro della collettività e per il bene di tutti ciò che tu fai se è in contrasto con le decisioni della maggioranza o con quello che il governo decide essere il bene della maggioranza è un atto di tradimento questa è la conseguenza di un discorso del genere in cui tutto ciò che un cittadino produce dal punto di vista materiale e spirituale deve essere al servizio della collettività e del bene di tutti nella visione di Hitler tant'è vero che se non fosse chiaro viene aggiunto noi chiediamo per questo motivo l'abolizione del reddito ottenuto senza lavoro e senza fatica l'abolizione della schiavitù dei prestiti a interesse considerando l'immane sacrificio di beni e di sangue che ogni guerra chiede al popolo l'arricchimento personale per mezzo della guerra deve venire dichiarato delitto contro il popolo cosa che esisteva se ben ricordate anche nel partito fascista noi chiediamo quindi la confisca integrale di tutti i profitti di guerra e noi chiediamo la statizzazione di tutte le imprese associate quelli che abbiamo visto essere chiamati i trasti i cartelli quelli che hanno messo insieme acquisendo aziende che producevano lo stesso bene la produzione intera del gacciaio del carbone in un'azione noi chiediamo la partecipazione agli utili delle grandi imprese noi chiediamo una completa riforma delle previdenze per la vecchiaia cosa che chiedeva anche il fascismo noi chiediamo che venga creata e conservata una sana classe media i borghesi i piccoli borghesi che i grandi magazzini vengano subito comunizzati affittati a basso prezzo ai piccoli commercianti che si aiutino tutti i piccoli commercianti mediante le forniture allo stato ai lander e ai comuni noi chiediamo una riforma fondiaria adatta ai nostri bisogni nazionali e questo le chiedeva anche il fascismo l'emanazione di una legge per l'espropriazione senza indennizzo del suolo per fini di pubblica utilità l'abolizione dell'interesse fondiario e il divieto di ogni speculazione sui terreni andando avanti nel suo ragionamento dice anche una cosa che però in italia non sarebbe potuto andare noi chiediamo che il diritto romano che serve il mondo materialistico leggete il capitalismo venga sostituito da un diritto comune germanico una tradizione antica che si rifaceva a le tribù ariane celtiche che poi in qualche maniera era entrata anche nel nostro diritto ma nel diritto germanico antico c'era anche per esempio la faida va ricordato andando avanti poi tutta una serie di articoli in cui lo stato è al centro di tutto deve occuparsi dell'educazione del fanciullo deve vietare il lavoro giovanile deve obbligarlo a fare sport obbligarlo a fare ginnastica deve sviluppare tutta una serie di associazioni che servono allo sviluppo del corpo e dello spirito in vista di quel servizio continuo allo stato che deve fare e poi polemica contro i giornali e contro la politica articolo 23 sono andata avanti noi chiediamo la lotta legale contro le menzogne politiche consapevoli diremo noi oggi contro le bufale le fake news e contro la loro diffusione a mezzo della stampa per rendere possibile la creazione di una stampa tedesca come se non esistesse chiediamo che tutti i redattori e collaboratori di giornali pubblicati in lingua tedesca debbano essere connazionali cioè non ci possono essere stranieri o ebrei che i redattori e giornali tedeschi non tedeschi debbano ottenere per essere pubblicati un'espressa autorizzazione dallo stato vuoi avere un giornale ebreo lo puoi fare ma ti devo autorizzare io ma non lo puoi stampare in lingua tedesca e che ogni partecipazione o influenza finanziaria su giornali tedeschi da parte di non tedeschi venga pietata legalmente un giornale tedesco non può avere fra i suoi proprietari uno straniero e che la violazione di questa norma venga punita con la chiusura del giornale e con l'immediata espulsione dal reich delle persone non tedesche implicate i giornali che contrastano con l'interesse della comunità e quindi chi decide che i giornali contrastano che l'opinione di un giornale contrasta con l'interesse della comunità devono essere vietati chiediamo la lotta legale contro un'organizzazione artistica e letteraria e qui vi riguarda futuri artisti che esercita un influsso disgregatore sulla nostra vita nazionale e chiediamo la chiusura delle istituzioni che violano i principi sovraesposti chiediamo la libertà di tutte le confessioni religiose entro lo stato se non minacciano la sua esistenza o non urtano contro la coscienza morale della razza germanica il partito come tale e non lo stato difende la concezione di un cristianesimo positivo ma non si rega a nessuna determinata fede ma lotta contro lo spirito ebraico materialista entro noi e fuori di noi ed è convinto che un durrevole risanamento del nostro popolo può venire soltanto dall'interno sulla base di un principio e qui è quello che vi ho detto l'interesse comune deve prevalere sull'interesse privato e per fare questo cosa chiediamo alla fine do per fare tutto quello che abbiamo chiesto chiediamo che venga creato un forte potere centrale nel reich un'incondizionata autorità del parlamento politico centrale su tutto il reich ricordo che era uno stato federale creazione di camere sindacali e professionali per l'esecuzione nei singoli lender delle leggi emanate dal reich i sindacati e le camere del lavoro non servono più a discutere le leggi o a proporre ehm opzioni contrattuali ma sono esecutori di una volontà centrale questo è il programma iniziale del partito socialista che sostanzialmente non non sarà variato nel corso degli anni non farà come il fascismo una variazione totale e nel frattempo il te lo sapete nel 24 organizza il pucci di monaco finisce male in galera esce dopo un anno e pubblica in quell'anno appunto il libro che ha dettato in carcere il mein camp in cui c'è una serie di farneticazioni totali di cui vi vorrò leggere dopo soltanto alcune piccole cose eh forse qualcuna ve la devo leggere adesso il complotto mondiale ebraico per esempio nel mein camp si legge e quindi chiunque in germania poteva tranquillamente sapere itler cosa avrebbe fatto perché l'aveva dichiarato non è stato uno che ha detto una cosa e poi ne ha fatto un'altra la finanza ebraica desidera contro gli stessi interessi dello stato britannico non solo la rovina totale dell'economica della germania ma anche la sua completa schiavitù politica l'ebreo è dunque oggi colui che incita alla totale distruzione della germania e in qualunque parte del mondo vengono mossi degli attacchi contro la germania sono sempre gli ebrei che li promuovono allo stesso modo in cui sia in pace che in guerra la stampa ebraica delle borse quella marxista hanno stimolato sistematicamente l'odio contro la germania finché gli stati uno dopo l'altro hanno rinunciato alla neutralità mettendo da parte i veri interessi del popolo e sono entrati al servizio della coalizione della guerra mondiale un discorso farneticante che sostanzialmente dice questo c'è un complotto ebraico per distruggere la germania gli ebrei dell'interno gli ebrei dell'esterno e questo complotto è ramificato nel mondo è un complotto che è adiuvato dai marxisti quindi dai comunisti internazionali l'odio è contro la germania tanto è forte quest'odio che a un certo punto il motivo per cui le altre nazioni hanno fatto guerra ricordatevi che è stata la germania dichiarare guerra non è stata non sono state le altre nazioni è stata l'austria a innescare la guerra quindi i tedeschi però la il motivo per cui le altre nazioni si sono coalizzate contro la germania era uno solo li hanno convinti che dovevamo essere distrutti chi gli ebrei e i comunisti l'annientamento della germania non era un interesse britannico perché tutto sommato gli inglesi pensa in qualche maniera che li stima non li considera il proprio dei nemici vedete quanto sbaglierà ma in primo luogo un interesse degli ebrei esattamente come al giorno d'oggi la disfatta del giappone non serve tanto agli interessi dello stato britannico ma risponde agli ambiziosi desideri dei capi dell'auspicato impero mondiale ebraico mentre l'inghilterra abbandona i suoi sforzi per il mantenimento della sua posizione nel mondo l'ebreo sta organizzando l'assalto per la conquista di quella stessa posizione come se dicesse guarda inghilterra che a te conviene un'alleanza con una germania forte anzi dovresti essere contenta perché in realtà tu stai facendo un favore a chi ti vuole distruggere mentre tu perdi potere come impero mondiale sta crescendo un altro impero enorme occulto nascosto che non ha un governo di stati ma è una sorta di combriccola di grandi e potenti impresari bancari imprenditori che sono tutti ebrei la cupola mondiale il governo britannico crede di tenere oggi in pugno gli stati europei alla strega anzi no scusate il governo ebraico che crede di tenere oggi in pugno gli stati europei alla strega gli strumenti primi di volontà sia percorrendo la via di una cosiddetta democrazia occidentale sia nella forma del dominio diretto attraverso il bolshevismo russo quali sono le due forme con cui gli ebrei governano nel mondo la democrazia e il comunismo qual è l'ultima che rimane noi la germania che dobbiamo creare uno stato che è completamente diverso che sputa in faccia al comunismo che sputa in faccia alla democrazia parlamentare gli ebrei tengono nella loro rete non solo il vecchio mondo ma la stessa potenza delle borse degli stati uniti d'america che permette loro di accrescere sempre più anno dopo anno il controllo sulla forza lavoro di un popolo di 120 milioni di abitanti gli americani pochi sono coloro che a loro dispetto riescono ancora a struttarsi al loro dominio è evidente c'è qualche analogia anche col presente i gran i poteri forti del mondo che governano il mondo gli stati non possono fare niente a volte l'europa viene identificata con questo questa i tecnocrati europei la burocrazia europea che ci dice quello che dobbiamo fare quelli sono il nemico e queste forme del parlamentarismo o anche quelle del comunismo non sono tanto diverse fra di loro perché sono due strategie complementari che il complotto ebraico ha messo per fare una sola cosa per distruggere la germania adesso voi immaginate anche un po la presunzione la germania è agli occhi di it talmente pericolosa e potente da meritare che ci sia un complotto internazionale che abbia un solo scopo nella vita distruggerla perché è l'unico vero ostacolo che si frappone tra il governo mondiale ebraico materialista e invece una via diversa e il fallimento di questo progetto siamo quindi nel 1933 quando un uomo del genere che ha pubblicato da dieci anni un libro pieno di farneticazioni simili a queste senza nessun aggancio storico senza nessuna reale fondatezza scientifica o anche solo ipotesi dotate di un senso coerente arriva al potere e ci è arrivato attraverso un'operazione stragiudicata non soltanto attraverso l'utilizzo delle elezioni democratiche ma anche con un incendio quello del Reichstag con l'intimidazione da parte delle forze di polizia ormai sottomesse a lui e in parte integrate dalle SA e delle SS con l'eliminazione dei nemici interni Ernstrom che viene nella notte dei lunghi coltelli fatto fuori come traditore insieme a tutti i suoi seguaci a coloro che potevano in qualche maniera aspirare non a fare qualcosa di diverso da Hitler ma a prenderne il posto nella guida in questo progetto delinquenziale e assurdo Hitler a questo punto si è messo in testa di rendere pratico quel programma che vi ho appena letto bisogna innanzitutto fondarlo su una cosa il consenso della massa qui c'è un'idea di fondo però la massa non è qualcosa di negativo se la massa è l'espressione di una verità universale che è quella della potenza del sangue della nazione germanica e all'interno di questa massa gli individui pensano in maniera uguale perché pensare la verità non si può che in maniera uguale nessuno di noi potrebbe dire che è una massa perché tutti quanti noi pensiamo che 2 più 2 fa 4 però in termini politici se tutti quanti noi dobbiamo perseguire la verità e la verità è il destino della Germania allora tutti noi dobbiamo avere ben chiaro quel principio fondamentale come individuo non valgo niente vale unicamente la società nella quale io sono una parte e io posso valere come individuo soltanto se sono al servizio di questa società in altri termini un individuo che non non corrispondesse negli intenti e nelle azioni al bene della società non sarebbe un individuo sarebbe un niente sarebbe un nulla è una visione per noi che siamo abituati invece a società conflittuali anche molto conflittuali come sapete bene in cui il dibattito a volte è aspro e scorretto ma comunque esiste è una visione estremamente radicalmente diversa per poter però rafforzare questo compito ha dichiarato it nel 33 che solo le minoranze sono quelle veramente coraggiose solo le minoranze hanno chiaro gli obiettivi solo le minoranze hanno il senso del sangue il problema è che il mondo tedesco è fatto da masse e queste masse quindi vanno educate a essere individui che partecipano all'idea dello dello stato totale come lo chiama uno stato che occupa ogni aspetto della nostra vita che si occupa anche di quello che è l'aspetto privato non esiste un momento della vita dell'individuo che non sia orientato e vittuto nel senso del servizio allo stato nazista mette a capo di un ministero che viene chiamato ministero della propaganda dell'educazione popolare dove la propaganda che per noi è un termine negativo è invece un termine estremamente positivo un certo joseph goebbels che era un ometto però molto in gamba se volete nel gestire la comunicazione spregiudicato è uno che ha invaso in particolare i barbieri si è reso conto che molto spesso i tedeschi leggono i giornali dai barbieri soprattutto gli uomini o dai parrucchieri le donne e ha invaso i barbieri in particolare di giornali a costo zero fatti con molte figure molte vignette titoloni urlati in cui si grida continuamente allo scandalo e in cui si scaglia continuamente contro gli ebrei ma una cosa indegna e trovando affinità con gli animali gli ebrei che assomigliano a delle capre gli ebrei che assomigliano a degli asini gli ebrei che assomigliano a dei maiali e cercando di prendere ogni notizia della cronaca e trasformarla in un complotto di questi ebrei che hanno nel dna la bruttezza ma anche la malvagità non sono coraggiosi ma giuscono in maniera sotterranea e sono per questo pericolosi e che vanno eliminati l'ideologia razzista a questo punto però è il potere quindi avendo il potere non si tratta più di distribuire giornaletti nei barbieri gebbels ha in mano tutte le nuove strutture di comunicazione esistenti non solo la stampa ma anche la radio che sta nascendo si sta sviluppando in quel momento il cinema di cui capiscono immediatamente il potenziale siamo nel 33 il cinema dal 27 già ha il sonoro pienamente sta per arrivare anche un cinema a colori ma sarà un po più difficile però tutto quello che viene fatto viene filmato se voi guardate i discorsi di hitler noterete che c'è la mano sapiente di un regista a volte una donna molto spesso le inquadrature sono fatte i montaggi sono fatti per sottolineare certi passaggi c'è il linguaggio del cinema che viene utilizzato per enfatizzare e per costruire una narrazione dei discorsi di hitler che è una narrazione tutta mitologica le inquadrature fatte dal basso quando lui parla i suoi gesti ripresi in primo piano e poi in piano americano la dis le inquadrature quando lui parla di chi lo guarda in maniera attenta di chi applaude il popolo che sui passaggi maggiori viene identificato come una massa adorante che si muove l'unisono e a volte anche le stesse scenografie che vengono allestite da architetti da fior fior di architetti alcuni sono gli architetti importantissimi nella storia che sono tutte volte a dare un unico grande messaggio con un impatto efficace notevolissimo i regimi totalitari più di quelli nostri che pure sono fissati con la comunicazione sono molto attenti alla comunicazione politica ma poiché l'educazione è più facile farla quando si è bambini viene immediatamente creata un'organizzazione di massa la prima per l'infanzia dai dieci anni in poi i giovani tedeschi i tedeschi non gli stranieri ebrei sono inquadrati nella gioventù italiana non tedesca gioventù italiana in cui è evidente che l'identificazione automatica mediata senza neanche bisogno di spiegazioni di hitler con la germania è già definita questa gioventù italiana che era un'organizzazione di partito fondata già nel 1926 per creare fin da bambini i futuri quali del partito è una associazione che diventa associazione nazionale nel frattempo anche i lavoratori non soltanto vengono come sapete bene messi all'interno di un fronte tedesco del lavoro che è un sindacato unificato e che come abbiamo visto nel programma politico di hitler è un esecutore delle decisioni che vengono dall'alto non è un interlocutore critico o analitico è semplicemente una cinghia di trasmissione tra la volontà politica della politica economica del lavoro del governo e quindi di hitler ecco con le associazioni del lavoro è ovvio che qui il conflitto sociale non si può neanche contemplare qualsiasi forma di conflitto viene considerata negativa se è interna allo stato chi confligge è un traditore come tale perde il posto di lavoro perde tutta una serie di diritti e viene trattato alla fregua di uno straniero e di un paio ma c'è un problema i lavoratori non sono sempre al lavoro per cui bisogna occupare anche il tempo che in realtà fa parte della loro vita privata tempo in famiglia che deve essere sempre più sottratto ai lavoratori viene in qualche maniera affiancato un programma che è un'organizzazione che viene chiamata con un nome abbastanza articolato e complesso ma che nasconde come dire molto poco l'ideologia si chiama forza attraverso la gioia un'associazione che doveva sostanzialmente dire questo più lavori meglio lavori più devi essere felice e per farlo noi che organizziamo anche le attività le scampagnate le adunate la domenica i luoghi di incontro il dopo lavoro il cinema gli svaghi tutto a prezzo statale tutto inserito nel pacchetto ma tu devi collaborare tu devi essere parte di questo grande progetto che è un progetto non di politica economica soltanto anche se quella avrà una sua certa importanza nel mondo nazista ma è un progetto in cui i tedeschi vengono richiamati a che cosa a essere un'altra volta una nazione che come un sol uomo in questo caso il uomo sarebbe eter non piega la testa davanti al qualsiasi potere straniero e diventa una forza nella collettiva identità voi siete tedeschi il sale della germania voi siete la gioia della germania dovete andare al lavoro ridendo sorridendo perché voi siete un gruppo sociale privilegiato e per questo lo stato vi organizza svaghi concerti partiti di calcio incontri sportivi adunate discorsi teatro però tutto viene scelto dallo stato si seleziona accuratamente una sorta di lavaggio del cervello quello che dovete fare e ovviamente parteciperete anche alle grandi adunate di massa questi grandi incontri di partito in cui non dovete apparire come individui ma dovete apparire come una massa ordante se volete fare un'analogia un po stupida se volete mi perdonerete soprattutto se siete tifosi e talantini anzi complimenti per la grande vittoria ma un po lo spirito dell'ultra è che va allo stadio ed è parte di un collettivo che deve apparire con lo stiscione come una forza come una massa in cui all'interno non si vedono grandi differenze cioè si vedono gruppi o persone individualizzate all'interno del gruppo degli ultra perché c'è solo una cosa che parla lì la fede nella squadra e l'unitarietà del tifoso che fa esattamente la stessa cosa insieme agli altri potiamo anche prendiamolo con le molle ma è così è ovvio che alla fine tutto porta alla identificazione di che cosa dello spirito tedesco con hitler che cosa può dare fastidio a un progetto del genere voi o meglio può dare fastidio a un progetto del genere la cultura perché la cultura è sempre stata da un mondo in mondo in occidente in particolare la critica dell'esistente la proposta di qualcosa di differente da quello che è in atto e l'abbiamo visto anche nel discorso fatto forse l'anno scorso sul romanticismo per cui o la cultura e l'arte sono controllate dallo stato e si adeguano agli indirizzi dello stato o sono contro per questo motivo la libertà di espressione non ha per un nazista alcun senso è un pericoloso veleno all'interno dello stato i libri devono essere approvati perché i libri sono pericolosi le parole e lo sanno benissimo questi che vivono di parole di slogan sono pericolose nel momento in cui ci sono parole contrastanti anche se non legge nessuno non devono essere più presenti vanno bruciati libri vengono organizzati i falò di libri proibiti un indice di tutti i libri o di autori o di tipi di libri che non possono essere considerati educativi anzi che vengono considerati perniciosi e la gente viene invitata a portarli nelle piazze e a bruciarli e a far vedere quanto eligia quanto partecipa a questo progetto di epurazione del mondo voi immaginate nel suo nella sua follia autori come zola proust ovviamente marx ma anche freud sono tutti considerati o perché ebrei o perché hanno raffigurato un uomo nelle sue debolezze o perché non hanno proposto una filosofia dell'azione ma una filosofia riflessiva o perché hanno delle aspirazioni socialiste insomma la lista può essere lunga sono considerati fautori di perniciose idee il nazismo è una delle dottrine se vogliamo chiamarla così che più hanno paura delle parole proprio perché è una dottrina che sulle parole ha fatto moltissimo della sua propaganda ma gli artisti uno come picasso come poteva essere accettato l'arte di picasso questo modo di guardare il mondo il cubismo il modo di guardare il mondo lontano dalla realtà una realtà più profonda per noi ma che i nazisti non riuscivano a capire non è altro che una degenerazione dell'arte l'arte deve essere fatta c'è anche uno sviluppo se volete dell'arte perché per un nazista l'arte deve dare un messaggio che sia immediato facilmente comprensibile non ci dobbiamo perdere troppo in simboli complicati che poi permettono di costruire interpretazioni no non non è questo l'arte l'arte non deve non deve scavare l'arte deve essere superficie ti devo far vedere un uomo che lavora e che è contento che lavora e quindi fammi vedere un uomo che lavora che è contento che lavora non mi far vedere invece prostitute mi far vedere una visione plurale del mondo non mi giustificare il surreale il sogno lorinico quelle sono cazzate per un nazista esiste soltanto la realtà ma se ci pensate la realtà è quanto di più povero esista per noi perché la realtà ha senso soltanto se noi sopra ci mettiamo immaginazione capacità creativa possibilità di discutere con altri entrare anche in dibattito con gli altri se riduciamo la realtà pochi elementi simbolici noi veramente abbiamo un linguaggio molto povero e umanità decisamente abbrutita è questo però che vogliono i nazisti e quindi l'arte degenerata viene totalmente condannata tutte le correnti dell'arte contemporanea che in quel momento stavano animando l'europa tra il 1900 e il 1930 sono considerate arte da buttare non la bruciano però non sempre pochissimo per fortuna perché tutte le opere di picassi che si trovano a parigi dovevano essere in qualche maniera conservate e chiuse in magazzini ma non vennero bruciate e ovviamente l'atto pratico di tutto questo significa che chi ha una voce discorde non soltanto se non è tedesco ma anche se è tedesco e non la pensa come Hitler deve essere eliminato guardate Hitler ha preso il potere nel 1933 nel 1933 sono già attivi i primi campi di concentramento primi campi di concentramento che sono affidati al comando all'organizzazione delle truppe più fidate le SS la polizia segreta la gestapo tutta nazista persegue i delinquenti un tribunale speciale li condanna senza troppe garanzie la sentenza di fatto già scritta e nei campi di concentramento che sono campi di lavoro vengono internati comunisti socialdemocratici ma anche confessioni religiose che non si sono piegate al compromesso con il nazismo come il cattolicesimo e il protestantesimo ufficiale che invece lo hanno fatto e tutte quelle razze inferiori più facilmente colpibili cioè gli individui che appartengono per esempio all'etnia finti gli zingari ma anche gli omosessuali che sono considerati la negazione nel sangue una malattia nel sangue della sessualità ma anche gli handicappati i portatori di handicap anche se questo creò qualche difficoltà in più per i chiedeschi che avevano dei portatori di handicap in casa all'inizio dovevano essere internati in campi di concentramento e fu detto anche abbastanza palesemente che nel caso in cui non fossero stati capaci di lavorare sarebbe stata fatta per loro una morte rapida e pietosa la comunità deve essere una comunità di sangue il progetto ditte di espellere tutti deve essere realizzato certo possiamo discutere se questo abbia avuto delle motivazioni economiche ma ci interessa anche relativamente poco che abbia avuto non abbia avuto delle motivazioni economiche ridurre il numero dei lavoratori prendere per esempio agli ebrei che ricoprivano in molti casi anche delle posizioni di prestigio economico e sequestrano i beni per lo stato poteva avere un certo interesse ma qui non possiamo spiegare l'accanimento contro gli ebrei gli zingari i dissidenti politici unicamente in termini economici come una furbata per incamerare i soldi e per diminuire la disoccupazione in germania qui si tratta proprio di una idea che come un veleno hitler e i suoi seguaci avevano e hanno trasmesso come un contagio a tutti i tedeschi per cui l'unico modo per sentire il bene degli altri è appartenere a una discendenza genetica appartenere neanche a una tradizione culturale ma una traduzione che è biologica quando all'epoca si identificava molto lo spirito razziale con lo spirito culturale nel 1933 già gli ebrei sono epurati significa che con un editto di un decreto presidenziale tutti coloro che lavorano nella pubblica amministrazione che sono giornalisti vedete ritorna l'articolo del progetto del del programma del partito e che insegnano non possono più insegnare dopodiché la legge ancora riconosce che ci siano cittadini tedeschi ebrei però nel 1935 a Nuremberg si decide che Nuremberg è la capitale del nazismo mentre Berlino è la capitale della Germania Nuremberg è il centro culturale formativo del nazismo e quindi a Nuremberg vengono promulgate delle leggi due che sono importantissime che determinano l'inizio della persecuzione legislativa contro gli ebrei dopo la grande depurazione la legge sulla cittadinanza del Reich che dice quello che aveva detto il programma soltanto i cittadini di sangue tedesco o a fine possono essere considerati i membri dello Stato cittadini dello Stato gli altri quindi gli ebrei non lo sono la seconda che è la legge per evitare la contaminazione legge per la protezione del sangue torna sempre questa idea del sangue dell'onore del sangue tedesco che invece proibisce non solo i matrimoni fra ebrei e tedeschi ma anche qualsiasi tipo di relazione amorosa tra ebrei e tedeschi in pratica anche tradire oltre a queste leggi viene proibito per esempio agli ebrei di avere dipendenti di sangue ariano se io avessi avuto se io fosse stato un ebreo e avessi avuto nella mia fabbrica dei lavoratori ariani non li avrei potuti avere eh diverso era il contrario se io ero sottoposto potevo essere e quindi per poter realizzare tutto questo progetto va istituito anche un tribunale a Norimberga che è un tribunale che in qualche maniera difende la razza e che si occupa in particolare di giudicare i dissidenti politici ma anche coloro che violano queste due leggi fondamentali in questo momento ci sarà un motivo per cui dopo la seconda guerra mondiale si sceglie Norimberga come luogo in cui processare invece i nazisti perché proprio in quelle stesse aule che hanno visto lo stato esprimere al massimo la sua potenza quella del giudizio quella della magistratura per un progetto di assurda denigrazione e umiliazione e annientamento di un intero popolo e di tutte le minoranze tedesche si scelgono proprio quelle aule le aule del tribunale di Norimberga per fare un nuovo tribunale scusate e da questo momento Norimberga indica non più il tribunale nazista ma il tribunale degli alleati che giudicano i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra che sono stati fatti dai gerarchi nazisti l'episodio del tribunale di Norimberga nazista non sarebbe neanche il peggiore perché in realtà da questo momento in poi nella società tedesca l'odio contro gli ebrei continua ad aumentare e viene alimentato da una serie di notizie molto spesso costruite finte che li indicano come colpevoli di abusi sessuali di furti di crimini efferati di tentativi di assassini Hitler subiranno decine e decine di tentativi di di assassino non ne andrà a buon fine neanche uno però molto spesso vengono accusati gli ebrei e vengono ricostruite delle trame che molto spesso non esistono nel 1938 c'è una velocizzazione cioè si assiste proprio a una a un tentativo di Hitler che in quel momento sta è occupato anche in politica estera come vedremo in una prossima lezione a gestire la situazione della cero slovacchia e a preparare di fatto la guerra contro contro la polonia l'occupazione della polonia Hitler decide di velocizzare questa cosa per cui si moltiplicano gli episodi che devono mettere gli ebrei al centro c'è proprio una direttiva che lui lancia al partito nazionalsocialista tedesco è una direttiva del 33 che però viene messa in atto in maniera molto forte nel 1938 quando dopo un tentato assassinio da parte di un giovane ebreo polacco neanche tedesco un ebreo polacco all'ambasciatore tedesco in Francia che si chiamava Ernest von Hart i tedeschi i nazisti scatenano una vera e propria caccia all'uomo nelle città e nei paesi tedeschi contro gli ebrei in pratica le bande di nazisti ss lsa vanno a identificare ed era facile perché c'erano le insegne c'erano tutto ma anche i negozi ma anche le abitazioni e i quartieri e iniziano con lo spaccare a sassare a manganellate tutte le vetrate ma in realtà si danno anche al saccheggio di queste case all'uccisione di molte persone una vera e propria un vero e proprio linciaggio che giustifica anche un furto totale perché le case vengono depredate in nome del complotto ebraico ci sono 178 sinagoghe in tutto il paese che vengono date alle fiamme e distrutte le case degli ebrei in molti episodi vengono saccheggiate e anche bruciate non sono pochi gli ebrei che muoiono e nessun processo verrà fatto dopo la polizia sa che deve guardare qual è la direttiva che aveva dato Hitler nel 33 è interessante perché è quella che viene eseguita c'è un tentativo sempre di mettere tutto sotto procedure da parte dei tedeschi dei nervisti indicazioni al partito per la campagna antisemitica 28 marzo del 33 Hitler è al potere da pochissimo in ogni sezione in ogni branca dell'organizzazione del partito debbono essere costituiti dei comitati d'azione per l'esecuzione pratica e pianificata del boicottaggio contro i negozi ebrei le merci ebree i medici e gli avvocati ebrei i comitati di azione si assumono la responsabilità che il boicottaggio non colpisca alcun innocente ma con tanto maggior durezza i colpevoli ecco tu dici ah bene o male non devono colpire gli innocenti il problema è che gli innocenti sono i non ebrei questo è il meccanismo che è chiaro anche in quello che si legge dopo i comitati d'azione sono responsabili affinché non venga arrecato danno alcuno agli stranieri di qualsiasi confessione origine o razza che siano il boicottaggio è una misura puramente difensiva rivolta esclusivamente contro gli ebrei tedeschi per cui se sei ebrei tedesco sei colpevole gli altri dovete fare attenzione non lo dovete colpire però gli ebrei tedeschi dovete colpirli loro sono i colpevoli colpevoli di cosa di essere ebrei i comitati d'azione pubblica devono immediatamente far sì che il boicottaggio attraverso un'educativa propaganda diventi un fatto popolare dovete coinvolgere la popolazione principio fondamentale nessun tedesco farà più le sue compere in un negozio ebreo né farà più stimare le sue merci da un ebreo dei suoi agenti il boicottaggio deve essere generale deve essere fatto da tutto il popolo e deve colpire gli ebrei nel punto più sensibile sottinteso li deve mettere in ginocchio per fame non devono più avere un cliente che non sia ebreo dopodiché va avanti continua a progettare queste azioni in cui bisogna costringere gli ebrei praticamente a chiudere i negozi perché non hanno più nessuna nessun cliente non vendono più dopodiché specifica anche una cosa che non è da poco i comitati d'azione avranno inoltre il compito di far sì che tutti i tedeschi che in qualche modo sono a contatto con l'estero diffondano a scopo informativo con lettere telegrammi e telefonate la verità secondo cui in germania regna l'ordine e la tranquillità cioè è vero i tedeschi non li stiamo trattando male ma guardate tutto a posto è tutto normale no sono cavolate quelle che sentite dai giornali ogni tedesco che ha un contatto all'estero mi raccomando scriva mandi un telegramma diffonda un comunicato per dire che qui è tutto tutto normale perché il popolo tedesco desidera soprattutto attendere al proprio lavoro nella pace e vivere in pace con il resto del mondo e che conduce questa battaglia contro la campagna di odio scatenata dagli ebrei soltanto come una misura di difesa dovete far passare questo messaggio che non siamo noi che odiamo gli ebrei ma che gli ebrei odiano noi e per questo noi li stiamo combattendo anzi noi siamo per la pace siamo per l'ordine sociale se stiamo reagendo è proprio perché non potevamo farne a meno gli ebrei ci odiano e quindi abbiamo dovuto reagire ma se fosse stato per noi avremmo la pace per cui in germania anzi il governo sta facendo bene perché ha fatto esattamente quello che ci vuole per ristabilire la pace e l'ordine che gli ebrei stavano distruggendo avremo ragione di questa campagna di odio soltanto mediante l'impeto decisivo con cui condurremo questa azione punitiva e qui è paradossale perché nel documento si fa passare come se fosse vero sono gli ebrei a odiare i nazisti e quindi stanno mettendo in atto tutta una serie di cose e quindi prima che loro colpiscano noi li colpiamo boicottandoli dopodiché il passo per arrivare nel 1942 al protocollo di Vansé è breve che cosa è il protocollo di Vansé è il protocollo con cui si decide nel 1942 che nei paesi occupati e poi anche in Germania ma un po' più difficilmente ma soprattutto nei paesi occupati gli ebrei dovessero essere deportati dai ghetti chiusi nei campi di concentramento e che lì la soluzione finale cioè le fucilazioni in massa e l'avvio nelle camere a gas dovesse partire secondo un unico grande piano che aveva un ufficio di coordinamento e che dava indicazioni e procedure precise su come smaltire il più velocemente possibile il maggior numero di prigionieri ebrei nelle camere a gas e poi bruciarli e qui ebrei saranno praticamente oggetto di uno studio scientifico su come si uccide più velocemente e in maniera più efficiente possibile un popolo intero in vista della soluzione finale perché questo dicono i documenti con una direzione adeguata gli ebrei dovranno venire mandati in maniera opportuna ad oriente come truppe di lavoro non lo facciamo in Germania lo facciamo ad Auschwitz divisi per sesso e incolonnati gli ebrei abili al lavoro verranno condotti in questi territori in modo da costruire delle strade lungo il percorso per cui senza dubbio una gran parte verrà eliminata per morte naturale primo obiettivo li facciamo lavorare finché non muoiono così risolviamo una parte del problema la parte in ogni caso restante trattandosi di coloro che senza dubbio sono i più resistenti dovrà venire adeguatamente trattata perché rappresenterà un'elite naturalmente prodotta sì che ove fosse lasciata libera sarà da ritenersi il nucleo di un nuovo organismo ebreo vedi l'esperienza della storia i più deboli moriranno nei lavori gli altri però sono più pericolosi perché sono sopravvissuti a un lavoro durissimo quindi se rimangono in vita faranno una razza ancora più forte per quello dobbiamo adeguatamente trattarli in vista della messa in opera della soluzione finale l'europa verrà setacciata da ovest verso est si comincia dalla francia che è occupata dal belgio e pian piano alla francia e pian piano vengono setacciati gli ebrei e vengono portati tutti nei campi di concentramento se volete sapere quali sono i dati di questo terminio vi posso dire quella che era la tabella che nel 1946 fu stimata dalle truppe americane e delle truppe sovietiche nel processo di norimbergo il comitato anglo americano nell'aprile del 46 stabilì che il totale poi le cifre sono cambiate qualcuno stima un po di più perché erano ancora dati incompleti il totale di morti è stato di 6 milioni e 29 mila di cui 195 mila in germania 53 mila in austria 250 mila in cecoslovacchia 1500 in danimarca 140 mila in francia 57 mila in belgio 120 mila in olanda 3 mila in lussemburgo mille in norvegia 20 mila in italia 64 mila 64 mila in grecia 5000 in bulgheria 530 mila in romania 200 mila in e in quello che era l'unione sovietica occupata un milione e 50 mila praticamente la polonia non ha avuto più ebrei dopo il numero è enorme è stato questo i campi di concentramento che iniziano a essere utilizzati massicciamente dopo il 1938 dopo la notte di lunghi la notte dei cristalli 8 novembre del 1938 quando c'è questo ennesimo pogrom contro gli ebrei sono arrivati fino al 1945 46 quando per la prima volta le truppe sovietiche entrano nei campi polacchi e liberano una massa di gente che da lì a poco sarebbe stata uccisa se non fossero arrivati però perché il nazismo funziona così tanto un poco perché quest'odio si è instillato nel popolo tedesco a furia di propaganda un poco perché la situazione economica è tremenda e perché hitler riesce ad affrontarla e qui l'ultima cosa che vi voglio dire prima di lasciarvi perché la lezione per vostra fortuna ormai al termine e che questo sforzo enorme di mettere tutto nelle mani dello stato e di eliminare il parlamentarismo la discussione porta a dei risultati in campo economico vi ricordo che la crisi era stata pagata nel 33 in maniera molto forte nel 1938 c'è una ripresa in inghilterra e in negli stati uniti la germania pian piano si riprende si riprende gestendo la cosa sia in politica estera e vedremo nella prossima volta quali sono i motivi per cui una cosa del genere è stata permessa come mai come mai le nazioni europee la francia l'inghilterra gli stati uniti anche che non sono europei hanno per me e la russia hanno permesso che si arrivasse alla seconda guerra mondiale proprio quando la paura maggiore di tutte le nazioni è che si ripetesse una guerra mondiale e poi dobbiamo vedere anche che cosa è accreditato qual è stata la politica che ha messo in piedi il terzo reich beh la politica che ha messo in la Germania dalla dalla crisi economica è stata sostanzialmente una politica militare avevano il divieto di costruire flotte se ne sono fregati avevano il per il divieto di creare un grosso esercito se ne sono fregati Hitler ha messo in piedi una politica che mirava alla piena occupazione che raggiunge nel 38 in quel momento in cui proprio scoppiano le conseguenze della politica antisemita e nel 1939 tutto quello che lo stato guadagna viene speso per oltre la metà in apparato bellico è evidente che il progetto è quello di utilizzare queste armi ma c'è anche un vantaggio economico nel frattempo è un vantaggio effimero perché da lì a poco se tutta la produzione pubblica viene impiegata in produzione bellica è ovvio che l'industria di guerra fa enormemente girare denaro e aumenta la produzione e l'occupazione però è anche vero che questo significa trasformare lo stato tedesco in uno stato in uno stato fortemente pronto alla guerra perché chi ha le armi le vuole usare perché chi ha le armi le sta sviluppando per utilizzarle e c'è un consenso enorme da parte dei tedeschi che sentono che c'è la guerra ma che vivono la guerra come l'ultimo atto di una rivincita nei confronti del mondo del resto del mondo che ha negato loro il ruolo che avrebbero dovuto avere in europa e che in base a un complotto ha deciso che la germania dovrebbe essere annientata ora ci riprendiamo tutto quello che è il nostro per cui vedono anche nel frattempo l'industria pesante che l'industria tutta militare sta producendo ricchezza la germania si è ripresa dalla crisi c'è una sorta di benessere collettivo non c'è più una voce di dissenso la germania è a questo punto pronta per la guerra ed ha un fortissimo consenso popolare